La Salernitana ha appena comunicato che ha esonerato Davide Nicola. Ora io voglio dire due parole, no? Per carità, avrà sbagliato con la Salernitana, viene da risultati non proprio soddisfacenti, l'ultimo è stato un pareggio, poi ha perso col Milan di misura, anche se meritava una sconfitta più ampia, eccetera. Però voglio considerare una cosa, Davide Nicola fino a sette mesi fa era considerato l'uomo dei miracoli, no? Aveva raggiunto una salvezza con la Salernitana in una maniera incredibile, poi lasciamo perdere l'ultima partita che perse malamente contro l'Udinese, eccetera, eccetera, eccetera. Però aveva preso una squadra disastrata, che era ultima in classifica oramai condannata, e l'aveva portata alla salvezza, ed era considerato l'uomo dei miracoli. Oggi viene esonerato, adesso non so se ci siano state delle divergenze con la Presidenza, eccetera, eccetera, ma viene esonerato ed è a più nove punti dalla retrocessione. Sinceramente non so cosa il Presidente si aspetti dalla Salernitana, cioè che, non lo so, vuole una qualificazione in Europa League, cioè cosa vuole? Vuole qualificarsi in Conference. Cioè la Salernitana quella è ad oggi a più nove dalla terz'ultima in classifica. Cioè che... perché? Cioè perché esonerare? Poi ripeto, se ci siano state delle incomprensioni, se ci siano state delle cose, questo non posso saperlo e non lo so, ma perché? Fino a sette mesi fa era considerato un fenomeno, oggi è esonerato a più nove dalla terz'ultima in classifica. Io regalo veramente queste cose, non... non lo so, non... Cioè adesso arriva un nuovo allenatore alla Salernitana, no? Più che salvarsi, cosa deve fare? Cioè nel senso, ma non è che stiamo parlando del... di un club che dici, sa, ad inizio anno abbiamo detto che... a settembre abbiamo detto che l'obiettivo minimo è la qualificazione, oppure l'obiettivo è la qualificazione alla Conference o all'Europa League. dici, vabbè, a più nove sulla terz'ultima. Ma la rosa della Salernitana è quella, eh! Cioè non è che... Più che aspirare alla salvezza, cosa deve fare Davide Nicola? Ripeto, sta giocando male, per carità, ma in tutti i club, in tutte le squadre, ci sono dei momenti, no, in cui non gira nulla, no? Esonero di Davide Nicola. Non lo so, fatemi sapere voi cosa ne pensate, perché io la trovo una cosa folle questa.